battiti live batti becco dietro le quinte va tutto in onda per sbaglio ieri sera venerdì 21 giugno 2024 è stata registrata la prima puntata della nuova edizione di battiti live trasmessa dall'emittente regionale radio norba tv e che andrà in onda a luglio anche su canale 5 sul palco di molfetta hanno fatto il loro ingresso ilary blasi e alvin i due conduttori si sono resi protagonisti di una scena che ha spiazzato tutti un dietro le quinte decisamente esilarante battiti live batti becco dietro le quinte va tutto in onda per sbaglio ieri venerdì 21 giugno a molfetta su banchina seminario ha detto debutta il radio norba cornetto battiti live 2024 si tratta della prima di tre serate in programma a molfetta le altre due si terranno sabato 22 e domenica 23 il festival più amato dell'estate italiana ha portato la musica più bella del momento in piazza e presto entrerà anche nelle case di milioni di italiani a condurre l'evento come dicevamo in apertura ilary blasi e alvin che in passato hanno lavorato insieme a l'isola dei famosi battiti live batti becco dietro le quinte con protagonista ilary blasi il video diventa virale ilary blasi ad inizio serata ha presentato il collega alvin così il posto è magico la musica è meravigliosa abbiamo le stelle c'è il mare e voi ovviamente vi starete chiedendo dov'è la fregatura purtroppo c'è a un nome che è quello di alvin la conduttrice ha poi rimarcato senti non ce la potevo fare che dovevo dire che sei bravissimo e preparatissimo lo sai che io voglio essere asciutta a seguire un fuori programma esilarante battiti live batti becco dietro le quinte alvin da solo sul palco dopo un'esibizione alvin è rimasto al centro del palco di battiti live da solo e ha chiamato ilary la blasi però non si è presentata in scena ma si è sentito distintamente un uomo che dietro le quinte ha detto dove sta o deve entrare adesso o ragazze a seguire è arrivata anche la voce della conduttrice che ha esclamato ma che devo dire no dai ma ditemi che devo dire però e un'altra persona ha detto alla blasi di raggiungere alvin devi entrare ora ilary devi lanciare la roba sì esatto l'ex di totti però si è lamentata è ma io mica so cosa lancio tutto è ben visibile nel filmato diventato virale su x il comunicato ufficiale di mediaset mediaset è orgogliosa di trasmettere battiti live si legge nel comunicato ufficiale dopo il grande successo delle ultime edizioni in onda su italia 1 radio norba cornetto battiti live il festival musicale più amato dell'estate italiana a luglio sbarca su canale 5 alla conduzione dell'edizione 2024 per la prima volta ilary blasi con alvin e la partecipazione di rebecca staffelli dalle più suggestive piazze della puglia radio norba cornetto battiti live è pronto a offrire al pubblico presente e ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale la regia della kermesse è affidata a luigi antonini